Ciao ragazze, buongiorno! Allora, oggi sono dall'altra parte del telefono perché voglio farvi vedere questa spesa, insomma, piccolina che ho fatto, neanche tanto piccolina, che ho fatto su un sito, oddio mi cade tutto, che è Sorgente Natura, che è questo sito qui, questo qui è il catalogo che mi hanno messo appunto nei pacchi, dove ci sono sulle offerte, eccetera, e mi piace questo sito, è la seconda volta che ci ordino, mi sono trovata benissimo, soprattutto perché sono veramente veloci a spedire i pacchi. Io ho ordinato, appunto, non mi ricordo che giorno era, mi sembra fosse di lunedì, se non sbaglio, e mi è arrivato tutto il martedì mattina, quindi veramente velocissimi. Ho preso un po' di cose che ci sono in offerta, un po' senza offerte, magari i prezzi vi lascio qua sotto, insomma, datemi solo il tempo di cercarli perché la fattura non vi arriva nel pacco, ma vi arriva per email. E' un sito che vende anche biocosmesi, vende anche lampade, accessori, vende veramente di tutto e ha veramente tantissima scelta sul cibo, insomma, sugli alimenti. Inizio subito, allora iniziamo da questa parte e cosa ho voluto prendere? Allora, due zuppe. Questa qui è la zuppa all'orzo, ovviamente biologica, della ProBios, da 300 grammi. E poi ne ho presa un'altra che invece è con il farro, sempre 300 grammi. Vedremo un po', insomma, come sono. Anzi, già che faccio questo video, voglio chiedervi una cosa. Vorrei iniziare a fare il video sui prodotti finiti del cibo, insomma, per quanto riguarda alimentazione. Ovviamente non terrò tutto, perché come alimenti confezionati, vi dico la verità, non ne consumiamo tantissimi. Perché preferisco farli io? Ovviamente quando ho il tempo, ecco, quando è possibile. Mangiamo tanta verdura, insomma, frutta, quindi tante cose confezionate, tipo merendine, non le vedrete. Però volevo appunto raccogliere, ecco, magari lo farò mensilmente o vediamo un pochino, appena si riempie la busta, raccogliere un po' di cose interessanti che provo che mi sono piaciute per consigliarvele. Quindi fatemi sapere se vi può interessare o come cosa. Comunque, andiamo avanti. Tortini di farro al limone, questi qui. Io ho già assaggiato la versione al cioccolato e erano veramente buoni. Questo qui è della Città del Sole, ci sono dentro quattro tortini, sono senza olio di palma, niente, biologici, insomma. Proveremo anche questi qua. Poi, cosa ho preso? Due scatole di legumi. Allora, questi qui sono le lenticchie italiane, da 400 grammi, della Bio Organic Made in Italy, il nutrimento. E poi, i fagioli rossi. Questi qua piacciono tantissimo a Dale e li ho presi soprattutto per lui, insomma. Io non è che vado matta per i fagioli rossi. Poi ho preso due confezioni, ma una è in frigo, quindi non la vedete, di panna di riso, di latte di riso, senza glutine. Questa qua mi piace tantissimo. Ecco, vi dico subito che io queste spese qui non le faccio molto spesso nei negozi biologici, perché comunque i prezzi sono abbastanza alti. Quando vado anche nei supermercati, però, cerco sempre di prendere cose dove è possibile e senza diventare matta, più sane, ecco, possibile. Anche perché poi, vi dicevo, preferisco farmele io. E quindi, niente, ecco, questa è una spesa che io farò, ma neanche una volta al mese. Quando mi va, quando posso farlo, mi piace anche provare cose di questo tipo, ecco. Ma non sono fissata, quindi cerco sempre comunque di mangiare bene, di comprare cose che abbiano ingredienti decenti, però, ecco, non sono di quelle ossessionate, assolutamente no. Poi, quindi, torniamo a noi. Fatto questa precisazione, appunto, ho preso questa panna qui della ProBios di riso. Questa qua mi piace tantissimo, non è la prima volta che la provo. E, niente, è molto leggera, ecco, rispetto alla panna, quella normale. Poi ho preso queste gallette di mais bio. Io non amo le gallette di nessun genere, non le mangio mai, praticamente, ma queste qua le mangia mio ragazzo, quindi le ho prese per lui. Credo che la marca sia questa, Fior di Loto, non lo so. E, niente, quindi queste qua. Poi ho preso questo perché era in offerta, mi ispirava tantissimo. Questo, mi ricordo, il prezzo è 1,99 euro, che non è poco, però, per provarlo, insomma. 200 ml di succo di mirtillo. Questo qui. Sempre biologico. Poi ho preso i semi di chia. Questi, che io amo tantissimo nello yogurt. Li uso sempre la mattina e mi piace proprio la consistenza che danno allo yogurt un po' croccantina. Mi piacciono tanto. E sono 200 grammi. Poi, ho preso questo chilo di sale rosa dell'Himalaya fino. Era in offerta sul sito e, per provarlo, insomma, anche questo qui è per curiosità, vi dico la verità. Non è che non comprerò mai più il sale normale, sicuramente, però, insomma, perché no? Mi piace tanto testare un po' le cose. Poi, vedete questa confezione vuota perché li ho già svuotati nel porta cereali. E sono questi cereali qua all'amaranto. Sono tipo quelli agglomerati, insomma, con il miele, lo sciroppo d'agave, mi sembra. Non mi ricordo. Sono buonissimi. Li ho già assaggiati. Veramente buoni. Molto croccanti. Dolci. Hanno dentro anche le mandorle. Dovrebbero avere dentro, esatto, anche il farro. Sì, c'è un po' di tutto. E buoni. Questi qua, veramente buoni. Ecco, guardate un po'. Ti piacciono queste scatole, Simba? Amore mio. Dai, fai vedere cosa fai. Adesso ti ho messo quella sopra. Mi sa che... Ah, ci stai lo stesso. Wow. Simba, piccola parentesi gatto. Fatti vedere quanto sei bello, amore. Un gattino da sorgente natura. Questo qui è l'omaggio che mi hanno dato. Oddio, un gattino tutto biologico. Amore mio. Vabbè. Torniamo a noi. Quindi questi qui sono buonissimi. Poi ho preso questi snack, anche qua. Ce ne erano dentro quattro e ne è rimasto solo uno. E con muesli e cocco e amaranto. Ce la posso fare a leggere. Di Lara Punzel. Questi qua li ho presi anche io dietro al lavoro, per fare lo spuntino, insomma, al pomeriggio. Mi sono piaciuti. Buoni, veramente dolci, ma non troppo. Si sente anche il cocco. Buoni. E niente, questi qui anche non dovrebbero avere, insomma, ingredienti schifosi. Eccolo qui. Questi qua sono gli ingredienti. Hanno l'olio di girasole. Poi, altra confezione aperta. Sono questi grissini con farro e olio extravergine di oliva. Della ProBio, sempre. Break and Bio. Questo qui, insomma. Buoni anche questi. Sono sottili. Veramente leggeri, anche come gusto. E niente, li stiamo mangiando, accompagnandoli, insomma, magari per pranzo o con qualcosa. Come contorno. Al posto del pane, perché noi pane non li mangiamo. Poi, poi, poi. Ho preso questo litro di bevanda all'avena. No, non era all'avena. Questo qui era la quinoa. Esatto. E mi ispirava proprio il fatto che fosse la quinoa. A me la quinoa piace, anche se costa una fucilata. Infatti la cucino poco, perché ha un costo veramente esagerato. Anche questo non costava poco. Mi sembra intorno ai 3-4 euro. Proveremo, insomma. Vedremo un po' com'è. Un litro, quindi, di bevanda alla quinoa. Questi biscotti che, guardate come li ha aperti bene il mio ragazzo. Insomma, ma si può aprire così un pacco. Comunque, sono già finiti, praticamente. 250 ml, sì. Ok? Grammi. Sono abituata a parlare dei cosmetici. Senza glutine. Biscotti biologici, sempre alla quinoa, con gocci di cioccolato. Questi qua sono buonissimi, ragazze. Anche questi hanno un prezzo abbastanza alto. Io biscotti non ne mangio tantissimo, quindi va bene, insomma. Una volta ogni tanto si può fare. Veramente buoni, infatti, sono praticamente finiti. Perché tra me e mio ragazzo... Niente, ci siamo dati alla pazza gioia. Poi, ho preso il caffè. Il caffè al cenero. Il caffè di montagna moca. America Latina, poi io non me ne intendo di caffè, sinceramente. Ho preso questo qui, così. Mi ispirava un po' la confezione, biologico. Insomma, assaggeremo anche questo. Ultime cose. Sono quattro confezioni di pasta. Allora, ho preso questa qui, che è con mais, riso, grano saraceno e quinoa. Sono delle mezze penne, senza glutine. Sempre di questa marca qua, più bene, che è come quella dei biscotti. E vi dico anche che è da 340 grammi. Poi ho preso questi qui, al mais, fiori di mais. Quindi pasta anche questa senza glutine, 350 grammi, sempre biologica, della Bioin. E poi questa pasta qui, alla quinoa, con mais e riso. Questo qui è da... Oh, chissà... 250 grammi, quindi pochissima. E ultimissima cosa. Questa qua l'ho presa di più, ecco, sempre per Ale. Perché lui, facendo sport, insomma, ha bisogno di alimenti proteici. Questi qui che sono le fusilli, insomma, di lenticchie. 100% lenticchie rosse. A me piacciono, devo dire che non mi dispiace come gusto. Però le ho presi soprattutto per lui, anche perché anche questi costano tantino. Sono 250 grammi, sempre biologici. Di che marca è? Fior di lotto. E basta, ragazzi. Allora, questa qua è stata la mia spesa. Intanto Simba è ancora... Si sta lavando nella sua... Mette a fuoco. Nella sua scatola. Simba, vuoi salutare? Patatone? Ehi, figaccione. Cosa stai facendo? Quindi vi saluta anche lui. E con l'immagine di Simba, che si sta lavando... Proprio... Non gliene frega niente. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Fatemi sapere... Sapere se avete provato qualcosa e se avete qualcosa da consigliarmi. Un bacione, ragazze. Ciao! Cosa hai visto? Ciao, Simba!